bentornati ragazzoni con il vostro amice vabbè mi? l'ha detto anche stavolta che è bravo 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 vabbè insomma oggi siamo al secondo capitolo volevo salutare mickey inter ciao ho voluto anche dire un'altra cosa allora siccome ho visto il tuo commento mickey inter però il problema è che ad alcuni non mi viene fuori il tasto rispondi sotto quindi non so se io magari rispondo dentro lo stesso video ma è difficile che voi andate a vedervi il video per vedere se vi ho risposto quindi il problema è quello che ad alcuni non mi viene fuori il tasto rispondi tutto va spero che lo vedi sto video qua tutto va e ok andiamo vai dentro come si fa spostati c'è manca la selezione se magari sposti quello lol non ci credo dai ma ti pare cazzo anche la selezione ok pronti quindi qui sono stati bravi perchè non si vedono in linea qua saltiamo c'è in due secondi due a morte devo concentrarmi ho paura del singolo funghetto anche io guarda con quello la muori si con lo la si madonna c'è per paura di andargli troppo vicino è stato troppo distante no quindi ok lì vengono fuori i pagliacissimi ma continua a spararne cazzo continua a spararne come faccio io come faccio io eh un attimo ma cazzo ma chi è quella la signorina aspetta un attimo una signorina che ti dà le volte allora così 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 allora devo cercare di prenderlo non so cosa devo fare forse devo saltarlo e basta vai andiamo di proezza ok ok saltiamo di là e basta ok qua posso prenderlo sta roba no ho paura di questa cazzo cos'è che fa saltala mi va in testa no vabbè ma non è successo adesso adesso si ma il bene è che non è successo niente quindi qualcosa succede ma si ma io pure andrì sopra è impossibile che mamma di dio ho preso paura ho detto adesso qua sotto mi è fuori un murriccio aspetta devo essere convinto ok ok adesso qua salto oh mio dio c'è la band 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 non struccare il tasto che poi metti muto non ti ho struccato scusa allora salta di là di là qua gli vado in testa non ti dovevi andare in testa perché che cazzo di forza ha ok provate ma no non sono capace ah che non cominci a darmi i pizzicotti come l'ultima volta perché ti prendo in giro oh madonna di dio come si fa a saltare 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 i tasti qua con questi qua va in su c'è salti in alto quindi c'è in su ti tirerei in punto ma se hai visto prima che muoio lì non ci sono riuscita a saltare in tempo vedi non riesco a saltare in tempo dove vuoi andare te non hai la mia proiezza cazzo guarda proprio con agilità ascolta pazzesca stai zitto aspetta quindi qua è così se li salti qua salto ok qua qua vengono su quei robin ok quindi adesso voglio provare adesso non li tornano su perché di solito sono stronzi e lo mettono due volte sto robo ok boh vai 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 ok è andata una vorrei che quello là casca mi sa vabbè intanto siamo lì adesso dai che è lì allora non devo montare su sulla scaletta ma vaffanculo addirittura è lì però cade dai vabbè ok moriamo dai ah niente ma vaffanculo stronzi ah ti lancerai te nooo ma io non ho mica non ho mica struccato per andare su ma ho lasciato lì normale cazzo eh cioè insomma vai aspetta ok stai distante da quella scaletta di merda questo qua salta quindi dobbiamo aspettare vero sì perché se no gli andiamo in testa ah non salta ah non salta cioè ma loro in testa cosa intendono eh beh basta salta agli sopra no ok qua facciamo così ma ti devo quindi se non mi ricordo male puō qua c'era una pagliacissima vстав mamma mia che pruezza anche allina succede niente e non so se ci vieni solo e lo so però non so se vai mano giù adesso o quando sei sopra non è detto vedi ma vaffanculo non sapevo no no ci te prendono dei dati ci prendono eh che cazzo adesso come faccio io no vorrei saltare io sinceramente ok allora io direi di tornare indietro cosa succede ormai ho capito sto gioco cosa succede non so moriamo comunque immaginavo devo risaltare da una parte a stanza quindi prima qua è stato il tasto non salta cazzo sta venendo l'occhio in croce guardala sta fiera poi va giù come un pelo e come quello di naruto si trasforma in realtà era mitica ma guarda non è che ti ho visto anche prima hai saltato c'è quel fungo lì verde io credo che i 6 salti vengono su no mamma di dio fa va guarda hai visto hai visto nel momento in cui tu sei su passa una cosa così tipo ho capito quindi andiamo sopra adesso provo a morire col fungo ecco come devi fare ah ma no canto sono arrivato la che come devi fare non hai visto la mia stellina dove ero finito è la di là in fondo da un'altra era un'altra dimensione e tutto e il fungo e il fungo era lì sono qui aspetta puoi spostarlo oh mio dio sì magari non lì dove lo mettiamo lì provo a buttarti magari prendi il fungo no non l'hai preso i nervosi di sto gioco ragazzuoli proprio non li capisco questo è quello normale questo è sì quello che ci fa saltare normali ragazzuoli mentiro giù bene ma come si fa a metterlo proprio giù è però anche da lì puoi saltare no ma è vero di fatto beh se salto sopra ok fermi 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 mi si è rincollato col piede ha appestato una cacca mi si è rincollato dai schiccia quel robot ma guarda i segreti dove sono messi su tutto questo gioco cazzo è disumano dai diamo matrix poi un altro lì salto un altro dobbiamo stare attenti a non andare sopra ok c'è la cazzo siamo arrivati alla fine del secondo livello ragazzuoli però il problema adesso non ti incolli lo so ho provato a vedere perché bisogna ragionarci adesso come bisogna fare non credo che sia così semplice andare lì col fungo abbiamo fatto andare via anche la cosa ragazzo e non l'avevo considerato sto ok quindi di là prendiamo questo sopra scriviamo 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 quello lì ci fa incollare giusto come è andato st'altro bisogna ragionarci un po su cazzo quale su quello lì sotto su quello sotto dici si è quello sotto ma per me bisogna tirarlo là e dopo tirarglielo a st'altra proprio così vola via capito non so se io lo tiro lì vedi no ok quindi col là non si può proprio da cercare il modo quasi scusate cinghiaccio ok due andati e adesso dobbiamo tirarlo di là a lei cazzo non saprei però e se saltiamo e basta dovremmo riuscirci eh se noi saltiamo non fai saltare oh no oh è troppo non ti arriva a prendere il culo dietro non puoi? non fai guarda che stronzo non fa neanche saltare quindi bisogna tirarlo forse prima bisogna tirarlo forse prima ancora che lei tira quella cosa madonna mia che complicato che è sto gioco non mica per vado e io ragionarci su eh a parte gli scherzi prima l'abbiamo riso ma cazzo non è semplice allora così la bestemmia proprio ok che bello il fushio poi di qua prendiamo questo su scriviamo questo no io dopo tu le prendevi vabbè perché cerco di farlo in velocità sto pezzo ok allora no vai adesso vai adesso è andato troppo tardi così poi di qua aspetta non hai detto però adesso lancialo via ci siamo riusciti sì ma ti sei portato un fungo via ioppi e siamo venuti viene col funghetto ragazzone allucinogeno vabbè spero che il video vi sia piaciuto sinceramente mi piace un casino sto gioco perché devi proprio stare lì cazzo a ragionarci su fa diventare via di testa proprio diventare via di testa proprio così non riesco neanche più a parlare a parte non sono mai stato capace comunque lasciate tante pollizioni su commentate e condividete ci vediamo alla prossima su Irish Exaction ciao a tutti ciao